Non possiamo assumere, dare per scontato che in Africa ci sia un'immunità di base contro Covid-19. Dobbiamo stare molto attenti a interpretare i dati perché ci sono pochi dati affidabili sulla presenza di Covid-19 in Africa. Per esempio in Zambia ci sono dati che mostrano chiaramente come la presenza e il danno da Covid-19 sia stato sottostimato. È possibile che l'esposizione ad agenti infettivi, l'uso di un vecchio vaccino contro la tubercolosi, si chiama BCG, abbia in qualche modo aumentato l'efficacia della prima linea di difesa. È possibile ma non ne siamo sicuri. Dobbiamo ricordare che non ci sono dei motivi genetici per cui le persone in Africa sono più resistenti a Covid-19. Lo diciamo con molta sicurezza. pensiamo che gli afroamericani negli Stati Uniti sono in realtà le persone che sono state più colpite e più sono morte a causa di Covid-19. Ed è la povertà il problema, non la genetica. La seconda cosa che dobbiamo ricordare quando si pensa all'Africa e all'immunità naturale si pensa a un'immunità naturale acquisita attraverso la malattia naturale. Non c'è dubbio, la malattia naturale dà una risposta immunitaria che dà protezione. Ma tutti i dati, tutti i dati ripeto, indicano che la miglior protezione viene data dal vaccino o dal vaccino combinato con la malattia naturale. È meglio non contare sulla malattia naturale per avere protezione. Lo dicono anche dati molto recenti del Center for Disease Control negli Stati Uniti.